Eccoci qua, come potete vedere ci troviamo a Tallin fra pochi giorni ci sarà la finale europea del Bocuse d'Or Bocuse d'Or che è cresciuto sempre di più anno dopo anno grazie anche al fantastico lavoro dell'Accademia sparsa in tutte le parti del mondo soltanto 10 della selezione europea riusciranno ad arrivare alla finale mondiale che si svolge ogni due anni a Lione i paesi che parteciperanno alla finale mondiale sono 24 e fra pochi giorni tenteremo di arrivare anche noi a questa enorme finale mondiale Ciao, sono Alessandro Bergamo, candidato italiano Bocuse d'Or sono qui in Estonia per la finale del Bocuse d'Or Europa accompagnato dal mio coach Lorenzo Alessio e il comini Francesco Tanese con sostegno dell'Accademia Bocuse d'Or Italia Federazione Italiana Cuochi per preparare la finale europea L'ingrediente principale del piatto di pesce è il pesce gatto accompagnato da tre contorni vegetali e una salsa come secondo tema abbiamo la quaglia accompagnata da due contorni vegetali e all'uovo di quaglia dovremo servirlo con due salse obbligatorie servito su un vassoio di portata è arrivato il furgone dell'Italia con l'attrezzatura adesso scarichiamo tutta l'attrezzatura e ci costruiamo una cucina qui di sopra la Farwell e ci prepareremo per l'allenamento di oggi perché faremo anche un allenamento qui a Tallinn abbiamo finito da poco da sistemare tutta l'attrezzatura in cucina adesso stiamo iniziando a ultimare la misa in plus per poi poter iniziare la prova di 5 ore 35 che faremo oggi qui alla Farwell siamo in preparazione in questo momento e stiamo selezionando il proletto di Bruxelles grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti